Lui è Pietro Felacone. Questa è la quindicesima proposta che gli porto. E che è sta cosa? È la stilizzazione di una pianta di pisellini. A me mi pare più... una fava in da una roulotte. E spiri qua, ci ne puliamo, ti do! Lui invece è Gennaro Felacone. Non so voi, ma io non capisco mai che cosa dice. Agente, come capisci che ne sei domaniato? Non solito io non capisco cosa dice. Che se sei sbagliato, che fava? No, no, no. Oh, è pisellino, sai che so? Fai un celometro o no? Ma non ce l'ho? Ho provato a renderla un po' più godibile in modo tale che anche chi non capisce la stilizzazione possa avere davanti un prodotto. Non mi piace.